Apro i miei regali di Natale! Ciao a tutti dei più grandi e più piccini! Io sono Elisabeth e in questo video, come avete capito dall'inizio del video, aprirò i miei regali di Natale insieme a voi! Innanzitutto, quando mi sono svegliata, sono andata a controllare se il latte e i biscotti non c'erano più. Infatti, Babbo Natale è venuto e mi ha portato questi regali. E ora andremo alla ricerca dei miei regali perché ci sono pure quelli dei miei genitori. Io non ho avuto pazienza di andarmi a cambiare e quindi guardate che bello è il mio pigiama con il cappuccio, che ora è il cappello, però... Bene, iniziamo! Vediamo qual è il mio! Allora, io guardo da... se è il mio questo? Ah sì, per Elisabeth, da mia mamma. E iniziamo subito ad aprirlo. Allora, sono super curiosa. Forse... ok. Forse servirebbero delle forbici, quindi forbici in arrivo! Eccole qui! Vai! Allora, tagliamo il nastrino, anche qui e anche qui. Perfetto! Anche da dietro, mamma mia! E ora vorrei scartare il tutto, quindi andiamo! Allora... Adorno! No! Vabbè! E' un quaderno di Harry Potter, però della mia casa, ovvero Serpe Verde, ma è bellissimo! Il primo era bellissimo, ora passiamo al secondo, che è questo, per me da parte di mia zia Valeria e di mio zio Vito. Iniziamo subito ad aprirlo. Allora, ok, anche qui. Perfetto! E ora scartiamo il tutto. Vediamo. Ok. Oddio, forse ho capito. No, vabbè. Sono le scarpe della Puma. Ma sono bellissime! Mi adoro! Ma... Sono bellissime! Ora chiudiamo la scatola, ok. Vabbè, e passiamo al terzo! Ora il prossimo! E sarà proprio questo qui, che è da parte di mia nonna Angela. E... Scartiamo subito. Se ce la faccio. Ok. Ok. Vediamo tutto qui dentro. Ma è bellissima! Ma è della Pirex! Ma adoro! No, vabbè. Ma io adoro tutto, cioè è bellissima! Prossimo regalo, ed è questo qui, che è da parte di Bavo Natale. Quindi apriamo subito. E qui... Togliamo il nastro gigantesco. E giriamolo per aprirlo. E tre, due, due, uno... Forse è capito. Sì, ho una cartella nuova! Vi spiego pure la storia, perché la mia si è rotta. Proprio, cioè, tutto, del tutto. E quindi ora ne ho una nuova, bellissima! Ora voglio aprire proprio quello lì. E quindi andiamo a prenderlo. Ok. Sembra che sto per fare un prasuro. Pesa un po'. Ok. Siamo qui. E ora apriamolo. È per me da parte di mio papà. Quindi apriamo subito. Uno. E due. E tre. Ok. Togliamo il nastrino. È gigante. Giriamolo. Non so quanto... Ah, è il campo. E apriamo i gigantetti. È in una scatola. Quindi dobbiamo aprire due cose. Nel frattempo che apro, vi volevo dire una cosa. Io amo aprire i regali. E amo anche il Natale, perché è tipo un'atmosfera bellissima. Non so voi, ma io adoro il Natale. Comunque, ora apriamo questa scatola. Ma a voi piace il Natale? Oppure siete come il Grinch che non vi piace? Ok, ce l'ho fatta. E ora vediamo cosa c'è dentro. Ok, togliamo questo che c'è. E inizio a vedere una cosa. Vediamo cos'è. Ok. Madonna, ma che... C'è il collare del mio gatto, perché l'avevamo ordinato, nel mio regalo. E noi pensavamo, ma si è perso il collare, perché non arriva da giorni. Ed era dentro. Quindi ora finalmente potrò uscire con il mio gattino. Finalmente. Però ora vediamo qual è il mio regalo. Quindi togliamo questa busta. Ah, ecco le forbici. Perché c'è ancora un'altra scatola dentro, un'altra scatola dentro, un'altra scatola. Ok. Ok, ce la sto facendo. Scusate, scusate un attimo. Aspettate un attimo che trovo tutto questo casino, quindi via scatola. Ho fatto un po' di ordine, perché c'era un sacco di carta, cartone. E quindi ora posso finalmente aprire il mio regalo. Quindi sfidiamo. Ok. C'è questa sacca, che pesa un po'. E la lasciamo qui. E poi vedo che c'è qualcos'altro. La ring light. Aspetta che ve lo faccio vedere. Bellissimo. Per chi non sa cos'è la ring light, è un treppiedi con una luce incorporato. Ed è bellissimo. Io lo voglio già montare, perché così vi faccio vedere com'è. A fra poco. Allora qui montato, guardate che bello. E si può alzare e anche abbassare. Ora l'ho messo alla mia altezza, ovviamente. Ed è bellissimo. Poi se mi avvicino, si vede il cerchio negli occhi. E adoro. E comunque ha tre accessori. Come potete vedere. Questo qui. Questo. Ecco. E poi il terzo. Il telecomando, che serve per fare le foto. Quindi tu clicchi qua e poi fa la foto. Il telefono. Finora sono super soddisfatta dei miei regali. Ma ora vi faccio vedere pure questi due. Questa Nutella da mia nonna Angela. E poi questo pupazzetto della Kinder con dentro cioccolatini dai miei genitori. Quindi mettiamoli qui. E passiamo agli altri regali. Ecco. Ho scelto di aprire questo. Quindi apriamo subito. E come potete vedere, qua fuori c'è la lettera di Hogwarts. Quindi presumo che ci sarà qualcosa di Harry Potter. Comunque questo regalo è da Babbo Natale. Quindi ora iniziamo subito ad aprirlo perché sono super curiosa. Prima tagliamo il filino della lettera. Ok, la mettiamo qui. E ora apriamo. Qui e qui. Sono super curiosa. E apriamo. 3, 2, 1. Ok. C'è una busta. Allora. Aspettate. Non sto capendo. Un attimo. Ok, c'è. Ci sono buste su buste. Un moment, please. Oddio. Non ci credo. La bacchetta di Draco. Malfoy che è il mio personaggio preferito di Harry Potter. Ed è bellissima. Ora voglio aprirla perché sono super curiosa di vedere com'è da vicino. Più o meno. Ok. Oddio. Che fastidio quando succede questo. Quindi c'è bisogno delle forbici che sono scappate. Ah, eccole. Ok. Quindi apriamo subito. Andiamo. Ci sono un po' di... Vediamo questa carta. No. Ok. Allora, vediamo un po' com'è. È bellissima. Wow. È fantastica. C'è... Wow. Ora leggerò questa lettera. E ora mancano soltanto due regali. E io direi di aprire quello più grande. Ma lo pesa tantissimo. Allora, mi servirebbero le forbici. Quindi le prendo. Ok. E apriamo. Ah, ed è da parte di Babbo Natale. Quindi. Così. Così. E basta. Ok. Giriamo. E apriamo. Ok. Oddio. No. No. Non ci vedo. Bellissimo. Oh mamma. Ci riesco. E io ho tutta la carta. Come potete vedere. Questo è il kit per dipingere. Perché ci sono tutti i colori. La tela. La tavolozza. È bellissimo. Passiamo all'ultimo regalo. Che è proprio. Questo qui. Sono super curiosa di cosa c'è dentro. E da parte di mia nonna Tinca. Quindi. Apriamo subito. Uno. Due. E tre. Togliamo il nastrino. E apriamo. Le tele. Wow. È bellissimo. Mia nonna sa che a me piace dipingere. Infatti mi ha regalato queste tre tele. E quindi un disegno lo dedicherò a lei. Quei regali lì sono dei miei genitori. E l'anno scorso li ho aperti sempre io. Ma quest'anno li lascerò aprire a loro. Quindi io direi di chiudere il video qui. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti pollici in su. Iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Attivate qui. La campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. Iscrivetevi anche sui miei altri social. Ovvero. TikTok. Instagram. E sulla mia pagina Facebook. Troverete tutti i miei nomi qui sotto nel link della descrizione. E ciao, tanti abbracci e buon Natale a tutti!